L'anticinema e il fragoroso applauso dei suoi sostenitori. Inizia così la domenica barese di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva aggiunge un'altra tappa alla sua campagna elettorale e parla ai pugliesi dei suoi piani per il Sud. Che cosa propone il terzo polo che gli altri partiti non propongono? La serietà. Nell'agenda ci sono le imprese, lo sviluppo, il lavoro per i giovani, le infrastrutture. Il bisogno di aumentare gli stipendi, noi partivi con gli 80 euro, ma il tema del lavoro e non del sussidio, dell'assistenzialismo, il tema del Jobs Act, Industria 4.0. Se avessimo ascoltato le minacce di Michele Emiliano non avremmo mai realizzato il TAP. E oggi sappiamo che quest'opera salva la Puglia e l'Italia, addirittura quelli che non lo volevano ora sono pronti a raddoppiarlo. Mentre dal palco l'apertura del comizio è affidata alla presidente del partito, Teresa Bellanova. Il PNRR spiega, va lasciato così com'è per non vanificare il lavoro di Draghi. Non stiamo combattendo solo per far conoscere il nostro programma, ma aggiunge anche per dare una lezione di stile. Il riferimento agli ultimi attacchi da Conte ed Emiliano si apre così il fuoco incrociato. Ci sono quelli che fanno politica promettendo voto di scambio, clientelismo, come quelli che dicono votatemi perché vi do il reddito di cittadinanza. E ci sono quelli indecorosi come il presidente della vostra regione, che ha parlato di Auschwitz per parlare del cantiere del TAP, che ha parlato di deportazione per parlare di buona scuola, che ha parlato di sputare sangue e stare in grado in una campagna elettorale. Io credo che Michele Emiliano si debba vergognare del vocabolario che usa, che è un vocabolario di odio, di aggressione verbale. Tante volte ha detto che è rimasto deluso della politica che avrebbe lasciato. Adesso torna fiducioso. Io ho detto una volta che avrei lasciato e poi milioni di italiani mi hanno chiesto di tornare. E quindi da questo punto di vista non ho mai messo in dubbio il fatto che la politica sia una cosa seria.